Benvenuti nel mondo di Moss Italia, la community di simulazione militare più appassionata e preparata che tu possa trovare. Se sei un amante del realismo, della strategia e della tattica, sei nel posto giusto. Immagina di far parte di una squadra affiatata, dove ogni missione ha un'esperienza unica, progettata nei minimi dettagli per farti vivere l'adrenalina del campo di battaglia come mai prima d'ora. Con noi, potrai immergerti nelle missioni più realistiche e coinvolgenti su Arma 3 e Arma Reforger, collaborando con operatori esperti che condividono la tua stessa passione per la simulazione militare. Da anni, Moss Italia è sinonimo di eccellenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.